Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi scopriremo insieme un nuovissimo prodotto arrivato nel catalogo Tessiland che è in grado di donare un tocco di chic e di eleganza a qualsiasi progetto voi lo applichiate. Stiamo parlando delle perle ovviamente, andiamole a scoprire insieme nel dettaglio. Ecco qui il nostro filo di perle a 8 mm e ogni filo contiene all'incirca 190 perle. Ognuna ha un foro da 1 mm, quindi delle perle che offrono una moltitudine di applicazioni per tutti gli amanti del fai-da-te e dell'artigianato. Sono infatti molto pratiche da utilizzare, quindi da infilare e permettono di dare un tocco di luminosità davvero unico regalando un tocco di eleganza a tutte le vostre creazioni. Le perle al tatto risultano fredde e hanno un effetto davvero molto luminoso. Questa che stiamo vedendo insieme è la colorazione oro, ma non è l'unica disponibile. Vediamo le altre. Come abbiamo visto, ben quattro colorazioni che sono simbolo di raffinatezza e di stile. Le perle da sempre fanno parte della storia dell'eleganza, danno un tocco di raffinatezza ineguagliabile. Pensate alla decorazione dei vostri capi, magari lungo i bordi di un cardigan o di un maglioncino, magari ai polsini, al girocollo di una t-shirt per creare un vero effetto gioiello. Pensate all'home decor delle tende di perle, ma anche come applicazioni su dei cuscini decorativi per il divano o per la camera da letto. Dei dettagli luminosi per le vostre borse, quindi delle applicazioni singole, oppure raggruppate per creare un piccolo elemento di luce o magari anche delle pochette eleganti da cerimonia. Sicuramente non passeranno inosservate, ma anche come piccolo tocco di eleganza per sciarpe e cappelli. E non sono rare le occasioni in cui le abbiamo viste essere utilizzate per l'allestimento di vari eventi. Pensate ad esempio alle decorazioni per battesimi, comunioni o anche per le nascite. E per ultimo, ma non per importanza, pensate anche alla creazione di bijoux, collane, orecchini, bracciali. Quindi la versatilità di questo prodotto resta sicuramente innegabile. Non vi resta davvero che scegliere il modo migliore per utilizzarle per la vostra creazione. Io, prima di lasciarvi, vi ricordo di seguirci anche su tutti i nostri social. La pagina Facebook, meglio di Maya, ma anche il gruppo ufficiale Tessiland. La pagina Instagram, TikTok, Pinterest e non dimenticate gli appuntamenti settimanali sul nostro blog, dove ogni settimana andiamo alla ricerca di tante curiosità e spunti creativi. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News.